In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo di questo fine settimana, vogliamo aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sulla situazione attuale del tempo? La presenza di una circolazione depressionaria posizionata tra i Balcani e il Basso Adriatico determina condizioni di tempo instabile su buona parte delle regioni centro-meridionali della nostra penisola. Anche la nostra regione risente dell'influenza della depressione, soprattutto durante le ore pomeridiane, quando rovesci anche temporaleschi interessano le aree montuose. Nella giornata di domani l'instabilità tenderà ad accentuarsi, estendendosi all'intera regione a causa dell'arrivo di ulteriore aria fredda in quota. Come sono invece le previsioni del tempo per il primo weekend di giugno, e quindi di sabato 1 e domenica 2? Per domani, sabato 1 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza al rapido aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori orientali della regione. Nuvolosità che sarà associata a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, che raggiungeranno anche le aree costiere. Parziale miglioramento dalla serata, temperature in diminuzione nei valori massimi, senza variazioni, le minime della notte. Venti tra deboli e moderati da nord-ovest e mare mosso. Domenica 2 giugno, al mattino cielo poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di nubi basse lungo la costa. Dalla tarda mattinata, sviluppo di nubi cum uniformi lungo tutta la dorsale appenninica, con associate precipitazioni a sfondo temporalesco. I fenomeni potrebbero interessare anche alcuni tratti di costa prima del tramonto. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli occidentali e mare poco mosso. E sulla tendenza della prossima settimana, che cosa puoi dirci? Da lunedì l'instabilità tenderà ad attenuarsi, anche se qualche rovescio pomeridiano sarà ancora possibile nelle aree interne. Le temperature inizieranno ad aumentare, grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico di natura africana, il quale interesserà dapprima le regioni settentrionali e successivamente l'intera nostra penisola. Probabilmente, tra mercoledì 5 e giovedì 6, l'afflusso di aria calda dal nord Africa si intensificherà, determinando un sensibile aumento delle temperature, con valori che, nelle aree più interne della nostra regione, potrebbero superare la soglia dei 30 gradi centigradi. Ma per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it